La notte nella piazza del mercato dove c'era appunto i soccorsi e le persone che arrivavano chiaramente sfollate dalle abitazioni che non sapevano dove andare e quindi questo sicuramente è stato un momento più emozionante, più che chiedere qualcosa era la comunità che si doveva stringere per cercare di risolvere questo problema. Sono questi i ricordi più vividi impressi nella memoria di chi l'incennio del 18 luglio 2022 a Massarosa l'ha vissuto in prima linea a fianco della popolazione. Il corpo della Polizia Municipale è una manciata di dipendenti comunali che proprio per il loro impegno in quelle ore terribili sono stati insigneti dell'encomio del Consiglio Comunale. È un atto sublime questo perché dare l'encomio ai vigili come potremmo darlo ad altri in questa assise vuol dire rappresentare tutti i cittadini del Comune di Massarosa in quella che è l'assemblea elettiva per l'impegno che hanno avuto e l'opera che hanno fatto durante la calamità dell'incennio. Una vicenda drammatica in cui il personale del municipio si è dimostrato in grado di garantire pieno sostegno alla popolazione. Per ogni bisogno, per ogni necessità sapevano chi chiamare e dove andare e questo per noi è stato il punto di valore aggiunto che tutti ci hanno riconosciuto e per cui l'esperienza di come è stato gestito l'incendio a Massarosa viene preso da esempio in tanti altri contesti.